Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Discussione senza precedenti tra Dejan Mello e Giulia Salemi che non se le mandano a dire, i social impazzano L'It senza esclusione di colpi quella tra Dejan Mello e Giulia Salemi che negli ultimi giorni sta spoplando sul web scatendo una reazione in attesa dei fan Le due sono state entrambe concorrenti dell'edizione numero 5 del Grande Fratello, uno delle più popolari ed apprezzate dal pubblico che con il tempo si è affezionato moltissimo ai cosiddetti vipponi All'interno della casa più spiata di Italia il loro rapporto è stato abbastanza altalenante caratterizzato da numerose discussioni ma anche da periodi di grande dolcezza soprattutto quando durante il programma Lamello ha saputo della notizia della morte di suo fratello Lucas in Brasile Da quel momento le due erano diventate praticamente inseparabili tanto da attirare l'attenzione di numerose fan, che le immaginava come un coppia inseparabile Di recente Dejan Mello, nota modella brasiliana, ha pubblicato un story su Instagram in cui si scaglia contro l'influencer italo persiana e le motivazioni fanno davvero discutere In un video social Lamello non si trattiene e comunica ai suoi follower di non seguire più su Instagram determinati personaggi lasciando intendere che tra questi ci possa essere anche Giulia Salemi Le ragioni avrebbero fatto infuriare Giulia e con lei anche il popolo di internet Lo sfogo social di Dejan Mello.Non nota per il suo carattere pacato ed accondiscente Lamello ha deciso di non stare più zitta e comunicare ai suoi followers il perché non segue più su Instagram alcune persone che prima definiva amiche A quanto pare Lamello ritiene che alcuni personaggi famosi abbiano paura che la loro luce venga oscurata durante gli eventi proprio dalla sua bellezza E in effetti, in occasione forse in un evento mondano, ci sarebbe stato un incontro tra Dejan e Giulia Sauritosi semplicemente con un breve saluto a causa della Salemi, considerata troppo sfuggente In questo caso, se ciò fosse vero, dimostrebbe un comportamento strano da parte di Giulia soprattutto non curante della storia della loro amicizia Il contrattacco è però fortissimo e la lite V più forte degli ultimi tempi è servita Si definisce schifata Lamello da questa situazione e da queste persone, non è disposta a perdonare Come l'avrà presa Giulia Salemi? In che modo ha replicato a queste accuse che potrebbero essere considerate infamanti? A quanto pare l'influencer e presentatrice non ha intenzione almeno per ora di rispondere alle parole della Mello e da parte su tutto sembra tacere A rispondere per le rime a Lamello ci hanno pensato i tanti commenti sotto il video, riportato poi da vari portali social, che si sono scagliati contro Lamello In molti non le credono anzi ritengono che il suo carattere l'abbia portata a litigare praticamente con tutte le sue amiche storiche Ma stai zitta ridicola, Giulia sarebbe gelosa della sua luce? Ma siamo sicuri visto che Giulia sta lavorando lei no si legge sul web, insomma, i followers sono dalla parte della Salemi che in riferimento all'invettiva della Mello ha deciso di tacere Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video